quarto video dedicato alla combo box anche se in quello precedente abbiamo fatto anche una piccola digressione sul componente numeric up down a proposito riportiamolo nello stato normale cioè indichiamo nelle sue proprietà qui sulla destra come numero di posizioni decimali 0 decimal places e nel codice load della form commentate l'istruzione che dava l'altra volta l'incremento di 0.1 adesso asfruttando il numeric up down che vi ricordo è già sincronizzato come minimo e massimo valore al numero di righe della combo box è facilissimo realizzare al volo il codice di alcuni degli altri bottoni tipo questo estrae riga che ho chiamato estrae riga n cioè l'ennesima btn perché va a prendere il contenuto del numeric e lo usa per dire ok mi serve quella riga lì e la copio qua in riga txt doppio clic sul bottone per aprire l'editor io l'ho già fatto e basta questa riga nella proprietà text che è una stringa andiamo a copiare che cosa beh prima accediamo agli items come al solito poi questo è il valore convertito in intero del numerino impostato nel numeric up down questo da punti di vista sintattico per il c sharp è un object perché potrei inserire anche altre cose abbiamo detto e lo vedremo diverse da semplice string nella combo box ed ecco il motivo della conversione col punto to string proviamolo 5 quindi è la sesta riga cominciando da 0 1 2 3 4 5 6 dovrebbe copiarmi qua 1997 e così è e passiamo al aggiungi dopo riga numero quale? quella chiaramente indicata qui e cosa verrà aggiunto il contenuto di riga txt questa volta si utilizza di items il metodo insert vuole due parametri la posizione e che cosa? occhio a non farvi fregare se qua avessi indicato aggiungi alla riga n allora avrei indicato esattamente il valore estratto dal numeric up down ma è dopo la riga n quindi si spiega in questo modo il più 1 che ho aggiunto qua e che cosa è il contenuto di riga txt eh d'accordo potremmo eventualmente verificare se non è vuoto allora aggiungo fate voi coerentemente dobbiamo anche consentire di raggiungere un valore in più un numero in più con i numeri up down se prima erano 70 devono diventare 71 insomma proviamo allora aggiungi 1, 2, 3 quindi deve diventare la quarta mettiamo 9, 9, 9, 9 che è bello riconoscibile prima, seconda, terza, quarta ok funzionerà se indichiamo l'ultima l'ultima adesso poi deve essere diventata 71 perché è 70 vi ricordate dal video precedente è il limite senza aver ancora aggiunto la riga quindi se mi fa crescere 71 ci siamo ok e non di più dico ok adesso questo 9, 9 me lo aggiungi in pratica in fondo dopo la 71esima riga vediamo andiamo in fondo devo alzare qui dopo il 1932 e qui ora si arriva a 72 perfetto beh l'aggiungi in fondo è banale lo possiamo realizzare in due modi o direttamente col metodo specifico add incrementando sempre il maximum del numerico up down oppure potremmo addirittura richiamare direttamente qui al posto di queste righe l'altro metodo poi ci proviamo prima questo semplicissimo 9, 9, 9, 9 aggiungi in fondo eccolo qui e ora soprattutto come esempio sfizioso che dimostra come sia possibile richiamare anche uno dei metodi generati o quantomeno preparati come scheletro dall'ambiente l'altra tecnica cioè aggiungere in fondo corrisponde a richiamare il metodo di questo bottone aggiungi dopo riga n impostando in automatico come questa riga n come il maximum per riportare lo stato del numerico up down esattamente a prima del click su aggiungi in fondo con questa tecnica poiché dovrò impostarlo a fine combo box mi salvo il suo valore prima di cominciare il vecchio valore del numerico up down poi gli imposto come se l'avessi fatto io col mouse in automatico il maximum come valore quindi come se avessi selezionato io qua 70 per andare in fondo e chiamo questo metodo che non può ovviamente rendersi conto se sia stato io col mouse a cambiare questo valore o la riga precedente fatto sta che il suo compito è quello di andare a prendere il valore che ci trova in quel numerico up down incrementarlo di 1 e poi copiare in quella posizione cioè alla fine il contenuto di riga txt in un modo chiaramente più farraginoso ho fatto la stessa cosa però è interessante il modo in cui l'ho fatta ed è interessante c'è questo da notare che io chiamo il dopo n btn click con i due oggetti parametri che l'aggiungi in fondo btn stesso riceve guardateli in alto il riquadro giallo per rispettare l'interfaccia di invocazione appunto del metodo aggiungi dopo btn click e adesso utilizzate le orecchie perché ci sono un paio di metodi che possono trarre in inganno come interfaccia d'uso intendo ce n'è uno che serve a rimuovere dalla combo box uno degli elementi e noi stiamo tentando appunto di utilizzarlo è il remove si scrive qua non so l'anno delle minare 2000 1995 quello che volete ma quello che succede può sorprendere infatti mandiamo in esecuzione dico mi elimini per cortesia il 1997 elimina grazie grazie un cavolo perché è ancora lì eppure il compilatore e neanche il motore runtime ci ha segnalato il benché minimo problema dove sta l'inghippo che non dobbiamo mai dimenticarci che se anche quelle che vediamo in elenco nella combo box sono delle stringhe quelle sono la rappresentazione data dal metodo to string degli oggetti non necessariamente delle stringhe che abbiamo aggiunto alla combo box se noi andiamo a guardare che cosa abbiamo aggiunto alla combo box sono ritornate nel metodo form1load notiamo che sono degli interi poi l'intero col to string mi dà la sua rappresentazione in stringa che vedo come riga della combo box ma l'oggetto memorizzato è un intero e allora avete già capito sì signori un bel convert to int32 del contenuto della riga sto fidandomi del fatto che si inserisca qua veramente un numero proviamo come prima 1997 convertito nel tipo di oggetto aggiunto suo tempo elimina il 97 sparito e se vogliamo sistemare una volta per tutte la questione della possibilità che qui ci venga scritto qualche cosa che nulla a che fare con un numero possiamo sfruttare il metodo statico cioè che posso richiamare direttamente sulla classe int32 in questo caso senza dover prima creare un oggetto di quella classe il try parse letteralmente tenta di fare tenta di riconoscere nella stringa indicata come primo parametro un qualche cosa che sia un numero dov'è che deposita il numero convertito nel caso ce la facesse nella variabile che indichiamo come secondo parametro dichiarata qui da osservare come il passaggio del parametro è per indirizzo perché dopo la chiamata tra i parse siamo interessati a che il valore dalla variabile esterna al metodo valore sia effettivamente mutato io qui ho dato come valore di partenza meno uno ma in realtà se non riuscisse ad estrarre un numero il metodo tra i parse restituirebbe false e quindi neanche andrebbe a tentare il comando remove proviamolo dunque facciamo col 2002 scrivo a 2002 elimina nessun problema non l'ha convertito è ancora lì e anche possibili varianti con qualcosa che non sia un numero dopo non producono giustamente effetto contro prova 2002 elimina ed è sparito viceversa senza il controllo e il try parse ecco quello che succede se vi scappasse un tasto puff eccezione non gestita ok sto insistendo parecchio sulla combo box innanzitutto perché essa stessa come componente è stra super usata e perché collezioni come gli items li ritroviamo nel list box e anche in altri componenti che devono contenere al loro interno appunto delle collezioni di oggetti per cui lo studio fatto qui vale non una non due ma tre o quattro volte mi fermo nel prossimo video andremo ad esplorare gli ultimi due o tre metodi utili e poi non so se concluderemo ma cominceremo la parte quali sono gli eventi più importanti che possiamo sfruttare per interagire con la combo box tipo l'utente fa una scelta e io in automatico voglio che scatti qualche cosa a risentirci e io in automatico Grazie a tutti.